Ieri sera è andata in onda la prima puntata del serale di Amici. Lo spettacolo è stato molto seguito, sta di fatto che Raffaella Mennoia, questa mattina, ci ha tenuto a ringraziare tutti per il successo A generare maggiore scalpore è stato, soprattutto, lo show che Pio e Amedeo hanno realizzato sul palco di Amici I due comici pugliesi accompagneranno i protagonisti della trasmissione per tutte e nove le puntate complessive Ad ogni modo, come sono soliti fare, i due hanno dato luogo ad una scenetta alquanto divertente che ha molto divertito il pubblico, sia in studio che da casa Il momento più epico si è verificato in occasione di una canzone, scritta dai protagonisti dello show, dedicata a Maria De Filippi Nel corso dell'esibizione, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio alquanto brutto che non è affatto piaciuto Alex Britti e il brutto gesto durante lo show di Pio e Amedeo.L'irriverenza e la spregiudicatezza di Pio e Amedeo sono caratteristiche che possono tanto piacere quanto indignare Nel corso della puntata di ieri sera del talent show di Maria De Filippi, si è verificato un episodio che sta facendo molto discutere Pio e Amedeo erano intenti a dare luogo al simpatico show sul palco di Amici quando, ad un certo punto, è stato inquadrato Alex Britti Ciò che ha fatto il cantante non è affatto piaciuto al pubblico da casa Nel momento della rappresentazione del brano ironico dedicato ad esaltare la persona di Maria De Filippi, tutti i presenti in studio non hanno potuto fare a meno di trattenere le risate Tutti tranne uno. Colui che è rimasto assolutamente di ghiaccio nel corso della performance dei due comici pugliesi è stato Alex Britti . Il cantante, infatti, è stato inquadrato più volte e il suo volto è sempre stato serio, a tratti addirittura infastidito Sui social moltissime persone hanno notato questo dettaglio, e, per questo, molti utenti hanno sentito il bisogno di commentare la vicenda Una pagina di gossip ha pubblicato su Instagram la parte dello show di Pio e Amedeo volta ad elogiare la conduttrice di Amici Molte persone, allora, hanno commentato scrivendo che il comportamento di Alex Britti sia stato davvero antipatico Il suo atteggiamento, notevolmente serioso e quasi infastidito, non è affatto piaciuto ai numerosissimi fan del duo comico Insomma, il comportamento del cantante non è certamente passato inosservato Ciò che adesso si sta domandando il pubblico è, per quale motivo ha agito in questo modo? Al momento resta un mistero Grazie a tutti